Come è la cassetta degli attrezzi di una supply chain? Alla qualità della previsione che riusciamo a darne, prodotti in cui si riesce ad avere una previsione buona iniziale hanno delle marginalità nel corso di tutta la vita del ciclo di vita del prodotto molto più interessanti di prodotti su cui la stima iniziale è stata completamente sbagliata. Dove molte delle energie vengono spese o per gestire casi di overstock o per gestire grossi saldi e sconti per accelerare la fine dell'uscita di questi prodotti dalle gamme classiche. Quindi oggi tematiche come replenishment, forecast e in generale nuove tecnologie come i big data ci possono essere molto utili all'interno di questa cassetta degli attrezzi. Grazie. 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 Grazie.